Tyson fomenta un'evasione. La buona notizia. Il tunnel di sinistra era dritto e non c'erano uscite laterali né anse né svolte. La cattiva notizia. Era un vicolo cieco. Dopo una corsa precipitosa di un centinaio di metri, andammo tutti a sbattere contro un enorme masso che ci bloccava totalmente la strada. Alle nostre spalle, dei passi strascicati e un respiro ansimante richeggiavano nel corridoio. Qualcosa ci stava inseguendo ed era qualcosa di decisamente non umano. Tyson, dissi, non è che puoi... Sì! diede una spallata violenta contro la roccia, facendo tremare il tunnel. Dal soffitto di pietra cadde una pioggerellina di polvere. Presto! esclamò Grover. Non buttare giù il soffitto, ma fa presto! Il masso finalmente cedette con un orribile fracasso di rocce sgretolate. Tyson si infilò dentro quella che per lui era una fessura e noi lo seguimmo. Chiudiamo il varco, disse Annabeth. Ci piazziamo tutti dietro al masso e iniziamo a spingere. La roccia tornò al suo posto e sigillò il corridoio. La creatura che ci inseguiva, qualunque cosa fosse, ululò per la frustrazione. L'abbiamo messo in trappola, esclamai. O ci siamo messi in trappola noi, ribatte Grover. Mi voltai. Eravamo in una stanza di cemento di venti metri quadri e la parete di fronte era chiusa con delle sbarre di metallo. Eravamo sbucati in una cella. Ma per tutti gli inferi dove cavolo... Annabeth scosse le sbarre. Non si mossero. Dall'altra parte si scorgevano file di celle disposte ad anello attorno a un cortile buio. C'erano almeno tre piani di porte e passerelle di metallo. Una prigione, osservai. Forse Tyson può... Shhh, mi avvertì Grover. Ascolta. Da qualche parte sopra di noi, dei singhiozzi cupi risuonavano nell'edificio. C'era anche un altro rumore. Una voce roca che borbottava qualcosa che non riuscivo a distinguere. Le parole erano strane, come cubetti di ghiaccio in un bicchiere. Che lingua è? Bisbigliai. Tyson sgranò l'occhio. Impossibile! Cosa? domandai. Afferrò due sbarre della cella e le allargò a grandezza di ciclope. Aspetta! gridò Grover. Ma Tyson non aveva intenzione di aspettare. Gli corremmo dietro. La prigione era buia. C'erano solo un paio di luci fluorescenti che tremolavano sul soffitto. Conosco questo posto, mi disse Annabeth. È Alcatraz. Vuoi dire l'isola vicino a San Francisco? Lei a noi. Ci sono venuta in gita con la scuola. È una specie di museo. Non sembrava possibile che fossimo sbucati fuori dal labirinto dall'altra parte del paese. Però Annabeth aveva vissuto a San Francisco tutto l'anno, tenendo d'occhio il monte Temalpais oltre la baia. Probabilmente sapeva di cosa stava parlando. Fermatevi! ci avertì Grover. Ma Tyson continuò ad avanzare. Grover lo afferrò per un braccio e cercò di trattenerlo con tutte le sue forze. Fermati Tyson! mi sbigliò. Non vedi? Guardai nella direzione che stava indicando. E il mio stomaco fece una capriola. Sul balcone del secondo piano c'era il mostro più orribile che avessi mai visto. Era una specie di donna centauro, solo che la metà inferiore del suo corpo non era quella di un cavallo, ma di un drago nero, ricoperto di scaglie lungo più di sei metri, con gli artigli enormi e la coda irta di spine. Le zampe sembravano avvolte da tralci, ma poi mi resi conto che erano serpenti. Centinaia di vipere che scattavano in ogni direzione, alla ricerca costante di qualcosa da mordere. Anche i capelli della donna erano fatti di serpenti, come quelli di medusa. La cosa più assurda era che attorno alla vita del mostro, nel punto in cui si congiungevano le due metà del suo corpo, la pelle ribolliva e mutava di continuo, producendo di quando in quando teste di animali. Un lupo feroce, un orso, un leone. Come se la donna indossasse una cintura fatta di creature in costante mutazione. Mi sembrò quasi di trovarmi davanti a qualcosa di incompiuto, a un mostro che risaliva all'alba dei tempi, prima che le forme si fossero pienamente definite. «E' lei!» piagnucolò Tyson. «State giù!» lo rimproverò Grover. Ci acquattammo nell'ombra, ma il mostro non stava badando a noi. Parlava con qualcuno chiuso in una cella del secondo piano. Era da lì che provenivano i singhiozzi. La donna drago pronunciò qualcosa nella sua strana lingua rimbombante. «Che cosa sta dicendo?» «La lingua dei vecchi tempi». Tyson rabbrividì. «Quella che Madre Terra parlava con i Titani e i suoi altri figli, prima degli dèi. Tu la capisci?» chiesi. «La puoi tradurre?» Tyson chiuse gli occhi e cominciò a parlare con un'orrenda e roca voce femminile. «Lavorerai per il padrone o ne patirai le conseguenze?» «Annabeth rabbrividì. Detesto quando fa così. come tutti i ciclopi, Tyson aveva un udito sovrumano e l'inspiegabile abilità di imitare le voci altrui. E quando lo faceva, sembrava quasi andare in trance. «Non lo servirò», continuò Tyson in un tono profondo e ferito. Poi tornò alla voce del mostro. «Allora mi godrò la tua pena, priareo». Tyson esitò quando udì quel nome. Non lo avevo mai visto uscire dal personaggio quando imitava qualcuno. Ma stavolta si lasciò sfuggire un singhiozzo soffocato. «Se pensavi che la tua prima prigionia fosse insopportabile, non hai ancora provato il vero tormento. Riflettici fino al mio ritorno». La donna drago si allontanò alla volta delle scale, con le vipere che le sibilavano come un gonnellino hawaiano attorno alle zampe. Distese delle ali che prima non avevo notato, delle enormi ali da pipistrello che teneva ripiegate sulla groppa squamata. Si staccò dalla passerella con un balzo e si allontanò volteggiando verso il cortile. «Noi ci accovacciamo ancora di più nell'ombra». Mi sentì investire il viso da un vento caldo e sulfureo. Poi la creatura scomparve dietro l'angolo. «Orribile», balbettò Grover. «Non avevo mai sentito una puzza di mostro così forte». «Il peggior incubo dei ciclopi», mormorò Tyson. «Campi!» «Chi?» domandai. «Tyson deglutì. Tutti i ciclopi la conoscono. Le sue storie ci spaventano da bambini. Era la nostra carceriera negli anni brutti. Anna Betannui. Ora ricordo, durante il loro regno, i titani imprigionarono i figli precedenti di Gea e Urano. I ciclopi e gli ekatonchiri». «Gli eka che?» chiesi. «I giganti centimani», chiarì lei. «Li chiamavano così perché… beh, perché avevano cento mani. Erano i fratelli maggiori dei ciclopi». «Molto potenti», aggiunse Tyson. «Magnifici!» «Alti quanto il cielo. Fortissimi, capaci di sgretolare le montagne!» «Fantastico», commentai. «Se non sei una montagna!» «Campi era la carceriera», continuò mio fratello. «Lavorava per Crono. Teneva i nostri fratelli rinchiusi nel tartaro e li torturava. Finché non è arrivato Zeus. Lui l'ha uccisa. Poi ha liberato i ciclopi e i giganti centimani per aiutarlo a combattere contro i titani nella Grande Guerra!» «E ora Campe è tornata», dissi. «Male», sintetizzò Tyson. «Ma allora chi c'è in quella cella?» domandai. «Hai fatto un nome prima!» «Briareo!» Tyson si rianimò. «Un centimano! Sono alti fino al cielo e… sì, lo stoppai. E sgretolano le montagne!» Alzai lo sguardo verso le celle del piano di sopra e mi chiesi come fosse possibile che una creatura alta fino al cielo entrasse in una stanza così piccola e perché stesse piangendo. «Sarà meglio controllare, immagino», propose Annabeth, «prima che Campe ritorni». Mentre ci avvicinavamo, il pianto divenne più forte. Quando vidi per la prima volta la creatura chiusa nella cella, dubitai dei miei occhi. Era di dimensioni umane, aveva la pelle molto pallida del colore del latte. Indossava un perizoma simile da un grosso pannolone. I piedi sembravano troppo grandi, avevano otto dita e le unghie sporche e screpolate. Ma la parte più bizzarra di quell'essere era il tronco. Al suo confronto, già non sembrava un tizio qualunque. Decine di braccia spuntavano in file ordinate intorno al busto. Sembravano normali, ma erano così tante e così intrecciate che il petto della creatura somigliava a una forchettata di spaghetti. Il gigante si inghiozzava coprendosi il volto con diverse mani. «O il cielo si è abbassato, oppure questo qui è un tappo», borbottai. Tyson m'ignorò, si inginocchiò. «Briareo», chiamò. I singhiozzi si fermarono. «Grande gigante centimano», esclamò Tyson. «Aiutaci!» Briareo alzò lo sguardo. Aveva il viso lungo e triste, con il naso storto e i denti marci. Gli occhi erano marroni e profondi, voglio dire completamente marroni, senza tracce di bianco né di nero, come se fossero fatti d'argilla. «Scappa finché puoi, ciclope», rispose Briareo affranto. «Io non posso aiutare neanche me stesso». «Ma tu sei un gigante centimano», insistette Tyson. «Puoi fare qualunque cosa». Briareo si asciugò il naso con cinque o sei mani. Diverse altre stavano giocherellando con dei tocchetti di legno e metallo di una branda rotta, proprio come faceva Tyson con i pezzi di scarto. Era uno spettacolo stupefacente, sembrava che le mani avessero una mente propria. Costruirono e smontarono una barchetta giocattolo alla velocità della luce. Altre mani grattavano il pavimento di cemento, senza nessun motivo apparente. Altre ancora giocavano a morra, mentre un gruppetto faceva le ombre cinesi sul muro. «Non posso», gemette Briareo. «Camp è tornata! I titani risorgeranno e ci getteranno nel tartaro. Metti la tua faccia coraggiosa!» Lo esortò Tyson. La faccia di Briareo si trasformò subito in qualcosa d'altro. Gli occhi marroni erano gli stessi, ma i lineamenti erano del tutto diversi. Aveva il naso all'insù, le sopracciglia inarcate e un sorriso strano, come se si stesse sforzando di darsi un piglio coraggioso. Ma poi la faccia tornò a quella di prima. «Inutile!» piagnucolò. «La mia faccia spaventata continua a tornare!» «Come hai fatto?» domandai. Annabeth mi diede di gomito. «Non essere maleducato! I giganti centimani hanno cinquanta facce diverse!» «Chissà che stress con le fototessere!» commentai. Tyson era ancora incantato. «Andrà tutto bene, Briareo! Ti aiuteremo noi!» «Me lo fai l'autografo?» Briareo tirò su col naso. «Ce le hai, cento penne?» «Ragazzi!» l'interruppe Grover. «Dobbiamo andarcene! Campe tornerà! Avvertirà la nostra presenza prima o poi!» «Spezza le sbarre!» ordinò Annabeth. «Sì!» concordò Tyson con un sorriso orgoglioso. «Ci pensa Briareo! È molto forte, più forte dei ciclopi! Guarda!» Briareo emise un gemito. Una dozzina di mani cominciarono a battere a ritmo, ma nessuna tentò di spezzare le sbarre. «Se è tanto forte, osservai, perché è chiuso in prigione?» Annabeth mi assestò un'altra gomitata. «È terrorizzato!» bisbigliò. «Campel lo ha tenuto prigioniero nel tartaro per migliaia di anni! Tu come ti sentiresti?» Il gigante centimano si coprì di nuovo la faccia. «Briareo!» chiamò Tyson. «Cosa... cosa c'è che non va? Mostraci la tua grande forza!» Tyson intervenne Annabeth. «Forse è meglio che ci pensi tu alle sbarre!» Il sorriso di Tyson si spense lentamente. «Va bene, ci penso io!» ripetè. Afferrò la porta della cella e la strappò dai cardini, come se fosse d'argilla. «Coraggio, Briareo!» lo esortò Annabeth. «Esci di lì!» Gli porse la mano. Per un secondo, la faccia di Briareo assunse un'espressione speranzosa. Diverse braccia si tesero, ma altre, a occhio e croce il doppio, le allontanarono con uno schiaffo. «Non posso!» disse. «Mi punirà!» «Andrà tutto bene!» promise Annabeth. «Hai già combattuto contro i titani e hai vinto, ricordi?» «Ricordo la guerra!» La faccia di Briareo mutò di nuovo, mise su il broncio e una fronte aggrottata. Il suo volto preoccupato, immagino. I fulmini scuotevano il mondo, lanciammo molte pietre. I titani e i mostri avevano quasi vinto. «Ora stanno tornando forti, me le ho detto campe!» «Non ascoltarla!» replicai. «Coraggio!» Non si mosse. Sapevo che Grover aveva ragione. Non avevamo molto tempo prima che il mostro tornasse. Ma non potevo lasciarlo lì. Tyson avrebbe pianto per settimane. «Giochiamocela a morra!» Mi inventai là per là. «Se vinco io, tu vieni con noi. Se perdo, ti lasceremo in prigione!» Annabeth mi guardò come se fossi pazzo. Briareo mise su la sua faccia diffidente. «Io vinco sempre, a morra!» «Allora giochiamo!» Picchiai il pugno tre volte nel palmo. Briareo mi imitò con tutte e cento le mani, producendo il suono di un esercito in marcia. Poi mi offrì una valanga di sassi, una quantità di forbici sufficiente a rifornire un'intera classe e tutta la carta necessaria per costruire una flotta di aeroplanini. «Te l'avevo detto», disse mestamente. «Io vinco se...» Poi indossò la sua faccia confusa. «Cosa hai lì?» «Una pistola», risposi, mostrandogli l'indice e il pollice. Era un trucco che una volta Paul Stockfiss aveva usato con me, ma non avevo intenzione di dirglielo. «La pistola vince tutto!» «Non è giusto!» «Chi ha parlato di giustizia?» «Campe non sarà giusta se ci trova ancora qui. Ti darà la colpa della porta scardinata!» «Ora vieni!» Briareo tirò su col naso. «I semidei barano...» Ma si alzò lentamente in piedi e ci seguì fuori dalla cella. Cominciai a nutrire qualche speranza. Ora non dovevamo fare altro che trovare l'ingresso del labirinto. Ma poi Tyson si bloccò. Al piano terra, proprio sotto di noi, Campe ci guardava ringhiando. «Di là!» gridai. «Sfrecciamo lungo la passerella. Stavolta Briareo fu contento di seguirci, anzi partì per primo, con tutte e cento le mani che si agitavano nel panico. Dietro di noi udì lo scatto delle gigantesche ali di Campe che si librava in aria. Si bilò e ringhiò qualcosa nella sua lingua antica, ma non mi serviva un traduttore per capire che aveva intenzione di ucciderci. Ci precipitammo giù per le scale, attraverso un corridoio e oltre una guardiola, e sbucammo in un altro blocco di celle. «A sinistra!» disse Annabeth. «Me lo ricordo dalla gita!» Irrompemmo fuori e ci ritrovammo nel cortile della prigione, contornato di torrette di guardia e filo spinato. Dopo tutto quel tempo passato al chiuso, la luce del sole era quasi accecante. I turisti vagabondavano e scattavano foto. Il vento sferzava gelido a largo della baia. A sud, San Francisco scintillava candida e bellissima. Ma a nord, sopra il monte Temalpais, roteavano enormi nubi nere. Il cielo sembrava un oscuro vortice che sgorgava dalla montagna dove era imprigionato Atlante e dove stavano risorgendo il monte Otri e il Palazzo dei Titani. Era incredibile che i turisti non notassero l'arrivo di quella tempesta soprannaturale, ma sembravano non essersi accorti di nulla. «È sempre peggio!» esclamò Annabeth scrutando a nord. «Ci sono state brutte tempeste tutto l'anno! Ma questa...» «Non vi fermate!» gemette Briareo. «È dietro di noi!» Corremmo in fondo al cortile, il più lontano possibile dal blocco delle celle. «Camp è troppo grande per passare dalla porta!» dissi Speranzoso. Poi, un muro esplose. I turisti strillarono quando il mostro comparve fra la polvere e le macerie, le ali spiegate grandi quanto il cortile. Era armato di due spade, delle lunghe scimitarre di bronzo che luccicavano con una strana aura verdognola, emanando volute di vapore acido e bollente, percepibile perfino da lontano. «Veleno!» strillò Grover. «Non fatevi toccare da quelle cose o... ci restiamo secchi?» intuì. «Sì! Ma prima ci sgretoleremmo lentamente in polvere!» «Evitiamo le spade!» decisi. «Briareo combatti!» esortò Tyson. «Cresci, sei un gigante!» «Niente da fare, anzi!» Briareo sembrava volersi fare ancora più piccolo. Indossava la sua faccia da... terrore puro. Campe ci venne incontro sulle sue grosse zampe di drago, il corpo avvolto da centinaia di serpenti. Per un secondo pensai di sguainare vortice e di affrontarla, ma poi mi sentii il cuore in gola e Annabeth diede voce ai miei pensieri. «Scappiamo!» Fine della discussione. Era impossibile combattere contro quella creatura. Corremmo al cancello della prigione con il mostro alle spalle. I mortali urlavano e fuggivano a destra e a manca. Le sirene d'emergenza scattarono. Giungemmo al molo proprio mentre arrivava un battello. Il nuovo gruppo di visitatori rimase di sasso quando ci vide arrivare di corsa, inseguiti da una folla di turisti spaventati, a loro volta inseguiti da... non so cosa vedessero nella foschia, ma non doveva essere niente di buono. «La barca?» chiese Grover. «Troppo lenta!» rispose Tyson. «Torniamo nel labirinto! È l'unica possibilità!» «Ci serve un diversivo!» intervenne Annabeth. Tyson sradicò un lampione da terra. «Io distraggo campe! Voi correte avanti!» «Ti aiuto!» mi vai fratello! Ci vediamo dentro!» L'idea non mi piaceva per niente. Lo avevo quasi perso già una volta e non volevo correre di nuovo quel rischio. Ma non c'era tempo per discutere e non avevo idee migliori. Io, Annabeth e Grover, afferrammo una mano di briareo ciascuno e lo trascinammo verso i chioschi, mentre Tyson urlava, abbassava il suo lampione e partiva all'attacco, come un antico cavaliere in una giostra. Campe aveva puntato briareo, ma Tyson ebbe tutta la sua attenzione quando la colpì in pieno petto ricacciandola nel muro. Il mostro strillò e cominciò a menare colpi con le spade, riducendo il palo a pezzetti. Grondava veleno, creando pozze sfrigolanti nel cemento. Tyson schivò con un balzo gli attacchi della sua chioma di serpenti, mentre le vipere attorno alle zampe facevano guizzare la lingua in ogni direzione. Un leone sbucò tra i volti informi che le cingevano la vita e ruggì. Mentre correvamo verso il blocco delle celle, l'ultima cosa che vidi fu Tyson che sollevava un chiosco di gelati e lo scagliava contro il mostro. Gocce di veleno e di gelato schizzarono ovunque, macchiando di mille colori tutti i serpenti della chioma di campe. Poi ci precipitammo di nuovo nel cortile interno. Non ce la faccio, sbuffò briareo. Tyson sta rischiando la vita per aiutare te! Gli urlai contro. Tu devi farcela! Quando arrivamo alla porta, udì un ruggito rabbioso. Lanciai un'occhiata alle mie spalle e vidi Tyson che correva tutta birra verso di noi, seguito dal mostro impiastricciato di gelato e di magliette ricordo. Una delle teste di orso che aveva sulla vita indossava un paio di occhialetti da sole storti. Svelto! Mi gridò Annabeth, come se ce ne fosse bisogno. Alla fine trovammo la cella da cui eravamo entrati, ma la parete era liscia, non c'erano tracce del masso. Il marchio! Ci esortò Annabeth. Eccolo! Grover toccò un graffio quasi impercettibile e comparve la lettera delta. Il marchio di Dedalus si illuminò d'azzurro e il muro di pietra cominciò ad aprirsi. Troppo lentamente. Tyson stava attraversando il blocco di celle, seguito dalle spade di campe che menavano colpi alla cieca, spaccando sbarre e pareti. Spinsi Briareo nel labirinto, poi Annabeth e Grover. Puoi farcela! gridai a Tyson, ma capì subito che non era vero. Il mostro stava guadagnando terreno. Sollevò le spade. Mi serviva un diversivo! Qualcosa di grosso! Diedi un colpo al mio orologio e lo scudo di bronzo si spalancò in una spirale. Con un gesto disperato lo scagliai in faccia al mostro. Zdang! Lo scudo colpì campe in pieno viso e la creatura esitò, quel tanto che bastava perché Tyson si tuffasse nel labirinto. Io lo seguì un secondo dopo. Il mostro ripartì alla carica, ma era troppo tardi. La porta di pietra si chiuse e la sua magia ci sigillò dentro. Il tunnel tremò sotto i colpi che campe picchiava contro la parete, ruggendo furiosa. Ma noi non ci fermammo a fare il gioco del toc toc con lei. Sfrecciamo nelle tenebre e per la prima e ultima volta fui contento di tornare nel labirinto.